Bilancio di metà mandato dall'amministrazione Gattinoni. Siamo con Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d'Italia. Da parte sua, che voto dà questa amministrazione e quali sono a suo giudizio i problemi più manifesti? Il voto è totalmente insufficiente. Mercoledì scorso abbiamo assistito al Bione, a una farsa, in cui questa amministrazione ha presentato un proprio personale bilancio rispetto a quello che invece è la realtà della città di Lecco. Loro hanno elencato una serie di iniziative che, secondo l'attuale maggioranza, stanno cambiando il volto della città quando la città ha ancora oggi una marea di problemi. Problemi che possiamo constatare quotidianamente con la viabilità. Non peraltro oggi iniziano le scuole e si può notare quali sono i problemi negli orari di punta. Banalmente i New Jersey, che vediamo ovunque nei cantieri dislocati in città, il Ponte Vecchio, il caso del Ponte Vecchio, tuttora aperto e chiuso in orari che non hanno particolare senso. Hanno promesso di rilanciare e riqualificare tutta la zona dei Piani d'Erna, dalla Funivia al Monte. Questa cosa non è assolutamente avvenuta. Avevano promesso di farci vedere Lungolago e Bione, che continuano a presentare in modo reiterato. Ad oggi non si vede alcun risultato. Per poi passare al caso clamoroso, che è anche la sede dei servizi comunali, che è attualmente Palazzo Bovara. E attualmente paghiamo fiora di soldi dai contribuenti per sedi in affitto quando è necessario avere una sede di proprietà. E questa sede di proprietà non si vede e tuttora non c'è garantita né sicurezza né spazi per i servizi ai cittadini. Per cui a fronte del talk show messo in scena dal sindaco Gattinoni, il giudizio attuale è veramente insufficiente.